Oggi Masum è un ometto ben vestito e in inglese dice che sta per incontrare il padre perché dai campi profughi ci si può salvare. Enzo Infantino nella sua casa di Palmi riguarda il videoricordo del bambino kurdo siriano conosciuto in Grecia e mischia gioia e commozione. La settimana scorsa ho accompagnato il piccolo Masum e le sue sorelline, la mamma da Atene a Francoforte fino all'abbraccio con il papà. Uno dei ricongiungimenti familiari agli Etofine dopo i drammi della fuga dalla guerra raccontato nel libro sui viaggi che il volontario umanitario fa dal 2015. Quella vignità, quell'orgoglio che è servita per sopravvivere. Mi hanno aperto diciamo le loro anime. Cagin nella tenda sotto la luna, questo è il titolo del libro edito da Pellegrini, racconta anche di una bimba concepita nel fango di Domenico. La sua nascita riscatta la volontà di queste persone di poter ritrovare una speranza di vita migliore. Bambini e pagine di speranza che diventano anche un manifesto politico per l'Italia di oggi. La sicurezza e l'accoglienza possono andare di pari passo così come hanno dimostrato in altri paesi europei. Il libro, il cui ricavato sarà devoluto per la ricostruzione postbellica in Siria, è scritto a quattro mani con la docente giornalista Tania Paolino. Agostino Pantano per la CNews24. Agostino Pantano per la CNews24.